Qui con Renato Bersano, presidente dell'Unione Sanremo, buona la prima e oggi si presenta la squadra alla città. Sì, oggi è una giornata storica in quanto questa presentazione sia da parte nostra che da parte dei tifosi e della città auspicavamo di farla quanto prima in quanto questa è una rinascita del calcio a Sanremo importante che mancava ormai da anni e di conseguenza sono veramente onorato innanzitutto di ricoprire questo incarico che è impegnativo ed è un incarico che comunque va oneroso e che va comunque rispettato perché porti in giro il nome della città di Sanremo. Una città fantastica che merita una squadra di calcio con delle potenzialità e delle capacità di costruire qualcosa di importante nel tempo e non che possa essere semplicemente un fuoco di paia. Quindi il nostro progetto è un progetto pluriannale dove stiamo lavorando e seminando molto bene sia per oggi ma anche badando molto al futuro.